Il problema è che uno dovrebbe sentire solo il suo cuore e lasciarsi aggare. Io immagino lui che bello vestito in abito bianco e lui e lei in abito nero. Visto che da etero sessuale se non potessi scusarmi, sarebbe una cosa contro natura, contro quello che una persona vuole. Sì, perché devono sposarsi persone che si amano, non importa se è uomo o etero, basta. Punto. Voglio, non ne voglio. Vorrei ma non posso. Voglio, non ne voglio.